La guerra di Putin fa costare di più anche dolci e gelati e l'allarme è lanciato da Col Diretti. Ascoltiamo. L'allarme dei prezzi dell'energia e delle materie prime colpisce direttamente anche il settore del gelato, che registra in Puglia circa 3.000 attività con 5.500 addetti, rappresentando uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Un settore fortemente segnato dagli effetti della guerra in Ucraina, che ha incrementato le spese di produzione, costringendo gli operatori a ritoccare verso l'alto i listini, ad affermarlo e la Col Diretti dopo un'analisi approfondita. Pesano soprattutto i costi energetici, con aumenti del 69%, ma quotazioni elevate si segnalano anche per tutte le componenti basi dei gelati, dallo zucchero alle uova, fino alla farina per preparare le cialde dei coni, che registrano un balzo del 9%. Preoccupazioni si registrano anche sul versante dei consumi, per un settore dipendente dal turismo e dalle esportazioni, che rischiano di essere frenati dalle tensioni internazionali. Dopo le speranze di un'uscita rapida dalla pandemia, ha aggiunto l'Associazione regionale. In Italia, conclude la Col Diretti, i suoi consumi hanno superato i 6 chili a testa l'anno. A essere preferito è di gran lunga il gelato artigianale nei suoi gusti storici, anche se cresce la tendenza nei diversi esercizi a offrire specialità della casa, che incontrano le attese dei diversi target di consumatori, tradizionale, naturalista, dietetico o vegano.